ok sciogli live ok allora allora prima di andare alla battaglia finale dobbiamo completare alcune cose qua ancora allora qui ci abbiamo c'è questo che manche meno fatto degli scalatori catture aeree si 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 ma allora andiamo a far subito a cattura aerea così ce la togliamo via via c'è un problema non mi fa fare la cattura aerea quella dove c'è la tempesta non ha quell'altra ne abbiamo una sicuramente esatto quella lì l'abbiamo da fare allora viaggio veloce devo fare subito quella lì che un po più facile in un attimo devo fare una cosa veloce un po' Grazie a tutti. Quando lo vedo la cattura aerea. Ando prima a verificare a piedi. Qui c'è una registrazione danneggiata. Con una rotta. Il punto d'inizio è in questo spazio aereo. Trovato. La cassa. Il punto d'inizio è in questo spazio. 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 La costa è in base. Lo sciame la recupera per intero. Poi toccherà all'entroterra. L'USRC ha tracciato un nuovo fronte a est. Chiunque si trovi dall'altra parte domani a quest'ora sarà considerato morto. l'ultima ricognizione al Pangea Park. Pasha aveva un abbonamento VIP. Che scemo. Adesso mi sarebbe piaciuto andarci. Per provare. Quattro. Per provare. La costa è in questo spazio. La costa è in questo spazio. Lo sciame. Per provare. Grazie a tutti. Siamo alla fine. Dopo il Pangea Park, toccherà Los Angeles. È come se non bastasse. Alla base mi sento gli occhi addosso. Mi osservano. Sospettano. Al mio ritorno farò trapilare quello che so. Alla base mi sento. 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 la base mi sento. Alla base mi sento. vedere i manufatti. la base mi sento. la base mi sento. Alla base mi sento. la 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 base mi sento. l'entrata. La base mi sento. Allora. Allora o ci vado volando perché fino la è lunga allora uso il teletrasporto sennò allora tolto modo secondo me dovevamo fare no quella quella cosa il cosmo si chiama la cattura aerea ma non te la fa fare perché dentro un edificio che è chiuso per coppa dei fulmini noi dentro l'edificio c'è il tesoro e c'è anche la cattura aerea e dentro si è stata detta con cui te le gire per fare la cattura aerea proprio da dentro se fai l'ascensione dal dove di che sta lì la porta è chiusa forse la tempesta interferisce con i circuiti ecco da vedere come si elimina la tempesta poi qualcosa che senta con la trama principale del dlc l'unica sperazione mi viene in mente quella è 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 non c'è la cattura aerea vedi il segnale là dentro? eh ho visto però mi sembrava di aver letto che ah guarda che cosa? la causa dei fumi l'ho trovata cioè? è una macchina che è in mezzo alle nuvole dovete con focus tu vedi la direzione con cui sono io però una traccia di una macchina ora sì, oltre all'interno delle nuvi è quella la causa della tempesta è un avistempesto praticamente infatti vedi? 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 c'è un avistempesto non durerò molto a lungo sulla mappa cavolo bisognava capire già da pieno qui se voglio esplorare l'isola devo capire cosa la provoca proverò con il focus se vedi sulla mappa era prevedibile vedi zona di avistempesta se vedi sulla mappa era prevedibile vedi zona di avistempesta qui dobbiamo far fuori con quell'avistempesta lì? sì praticamente sì quell'avistempesta si è diretto tra le nuvi lo rintraccerò con il focus l'avistempesta si comporta in modo strano tutto che stia seminando le nuvi perché ci sono degli avistempesta che sono che sono normali ecco ecco eccolo ho dato in mezzo sì ma anch'io l'ho selezionato però sono andato anche sopra le nuvi allora vabbè come dovrei per combattere perché non posso fare niente da qua non posso seguirlo anche perché seguirlo diventa cioè combattere da qua non puoi mica come fai fatti forse con vedo se vedo così devo farlo vedo che non erano male questo ecco non ho capito beh devi sempre seguirlo perché prima ti tirano nascosto e ti fa precipitare e quando l'ho seguito seguito la scia cosa succede allora tu mi segui da scia quando quando vedrai il vero avistempesta avanti invadisempesta contra ok non 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 Grazie a tutti. 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 Perché a tutti. E' un'altra... E' un'altra... provo a vedere... qui c'era... dove c'era... esami... particolare... scusa... il tesoro... il tesoro... capitano Flint... si ma... si ma... si ma... si ma... si ma... c'è... c'è una cassa qua... chiusa... chiusa... lì... lì... di fronte... di fronte... mi dice... mi chiamano... io c'è l'arancione... ma è bloccato... è bloccato... così è tutto più facile... allora... il tesoro... il tesoro... il tesoro... spettiamoci... eeh... bisogno... bisogna capire... dov... dovď... dov..we... Grazie a tutti 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 Non ti fidi di me Ed è il 32 Ok Me lo sono capiato Oh che bello E' l'impresa sarà sarà prendere uno no ma facciamo come vi ha fatto l'ultima volta una cosa qui mi mettono di morte sì ma l'ultima volta non l'abbiamo presi in questo punto ero in una spiaggia io oggi provo a fare l'istate vediamo quella di il tuo alfa pensa a te con quell'onore in tuo poplano alfa ah sì sono tutti alfa non si neanche un po' sui nascondi si neanche ottimo potrei chiamarli con il sasso sì ma l'alfa te lo fa prendere non credo vado aspettando ad andare a quel paese forse potrei cauravano sicuramente è vero Questa è vera? Lo che non abbia visto ma così perché se ne sono uno no c'era più di uno però il problema che non capisco come farlo avvicinarmi perché volano non sono mai fermi allora qui ho tolto i tre io sto guardando se sono degli altri ma non ne vedo mica ma non ne vedo mica ma non ne vedo mica non è esattamente quello il punto un plano sconosciuto ora vediamo se sono più semplici un po' No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no come ha fatto vedermi dal basso ah sono due alfa adesso bene no perché mi sono roto adesso mi metto a casa mi sono roto con abilità ecco le palme gemelle sono sulla strada giusta allora mi fa fare solo con il silenzio allora devo farlo di giorno questa roba qua è è è è è è è ma come già me ne lo trovate ho lasciato dentro il disco teniamo fuori siamo qua ci si affreda per bene allora qua cosa dice la dove c'è oggi il sole alfa di giorno allora il sole s'oggi di qua s'oggi di qua quindi bisogna essere più o meno qua parla dell'altra riva arriva l'attraversata perfetto forse l'ho trovata tesoro 15 di brillite tessuto valore dell'info 15 di brillite scultura antica antico bracciato nero colana antica bidon luminoso cionari antichi rigotto d'argento occhio metallico antico e altre madonne anche le madonne ci sono tesoro degli scavatori trovato allora qui perché qua ci sono le palme gemelle che ti parla quindi le palme non crescono in montagna crescono vicino all'acqua dopo ti dici di attraversare il mare cioè di attraversare l'acqua là dove sorge il sole quindi quindi praticamente qua sorge il sole anche se non anche se io c'ho buio ma pensare ai punti cardinali e mentre cammini sulla spiaggia lo trovi prima del faloe no l'hai già sorpassato lì lì sì lì aspetta no no vai lì gira lì lì in mezzo ancora vai vai è lì è lì è lì eh x una specie di x quasi la classica x del tesoro dei pirati sì quasi x però quasi x eh infatti tesoro e scavatori trofeo beh ma chi ha dato il tuffoplano il tuffoplano eh no devo ancora riuscire prima o poi a recuperarlo se se devo incontrare due tuffoplani alfa di giorno ti sembra normale? il tuffoplano alfa quelli alfa non te li fa mica recuperare eh veramente che questi qua sono alfa eh se no andiamo a cavalcatura andiamo qua andiamo qua questo eh andiamo là in fondo eh qua doveva trovare gli alfa anche qua si questi poi questi qui non è basta non sono mai fermi questi allora io provo ad andare qua allora ah scansiona eh alfa ah c'è uno normale dai ah lui c'è uno normale userebbe eliminare l'altro eh quello normale chiaramente va per con i suoi oh ah entra C'è qui! Dove essere questa la zona che l'abbiamo catturato la prima volta eravamo sulla terraferma però eravamo su un ripiano basso ma come faccio a raggiungervi se voi siete tutti lì? se provassi a affuminarli con questo a tutti i nostri amici se provassi un po' di rivelo Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. che casino. a tutti. 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 qua. a tutti. 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 no 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 sembra che non vadino giù neanche con quella nuova arma che abbiamo preso infatti io sono tanto buttato giù con lanciacolde quello normale me ne sono andato via si ma io devo prima liberarmi degli alfa se no non riesco mica ad arrivarci no Grazie a tutti Grazie a tutti Se ne sono quanti ne vuoi Quando ti seguo non ci sono mai Ah no 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 Grazie a tutti Grazie a tutti No Grazie a tutti 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 Prendiamo Grazie a tutti 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 Tutti Grazie a 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 tutti